Salve a tutti, io sono Donio Cantoro da Campi Salentino in provincia di Lecce, sono direttore di un centro di formazione professionale che si chiama Calasanzio Cultura e Formazione. Il brano che vi voglio proporre oggi è una lettera scritta da Guido Bergamasco, un ragazzo, uno studente di 21 anni, che nel 1942 fu rinchiuso ad Auschwitz. Questa lettera è riferita e inviata, destinata al fratello e racconta di quello che insomma era la vita in quel posto orribile, ad Auschwitz appunto, un posto che fu progettato per sterminare con cinica intelligenza ed efficienza. 10.000 persone al giorno venivano uccise lì ad Auschwitz e secondo alcune stime in totale morirono, un milione e mezzo di ebrei, un milione di prigionieri politici, oltre agli zingari, agli omosessuali e ai testimoni di Genova. Chi muore lì ad Auschwitz scompare nella polvere, ma chi rimane vivo viene privato di ogni dignità. Caro fratello, quanto vorrei spedirti questa lettera, ma purtroppo non mi è possibile. Posso solo scriverti, sperando che un giorno, in qualche modo, questo pezzo di carta straccia arrivi in mano tua e tu possa sapere che io sto bene. Quando arrivi qui, come prima cosa ti spogliano, ti portano a vivere i vestiti, l'orologio, i documenti, le foto. Poi ti rasano i capelli a zero, li ammassano in grandi mucchi, così fanno anche per le scarpe e i giocattoli per i bambini. Ti privano di ogni cosa, ogni oggetto, seppur di poco valore, che abbia impresso qualcosa di quello che sei tu o della persona che eri prima di entrare qui. Lo fanno perché che il deportato in un campo di concentramento non può avere ricordi. Anche il ricordo dei familiari viene schiacciato dall'esigenza di sopravviere. Poi consegnano ad ognuno una specie di pigiama, una tuta a righe bianca e blu, che diventerà il tuo unico abito. E infine ti assegnano un numero, 16.924, questo è il mio. Sembra impossibile quanta gente si è richiusa qua dentro. Ci tengono stipati molti nelle nostre celle, prigionieri. Usciamo solo per lavorare, lavoriamo fino a quando le gambe ci cedono e le braccia non si sollevano più. Stiamo in fila per delle ore, solo per ricevere un po' di brodo insipido, con del panico, né vecchio ammollato. Solo questo, una volta al giorno. Questo è il posto in cui, quando conosci una persona, non sai se il giorno dopo la rivederai. Fiamme escono dai forni crematori. Fumo, giorno a notte. L'odore è terribile, insopportabile. Le file di uomini che vi si dirigono interminabili. Bambini, giovani, anziani. Tutti vanno a morire nello stesso posto, nello stesso modo. Milioni di storie di persone diverse diventano cenere, insieme ai loro corpi. Ieri camminavo per strada, stavamo andando a lavorare, e c'era un vecchio che spazzava il cortile. Un ragazzo del mio gruppo gli rivolse un saluto chiaramente nostalgico, con gli occhi pieni d'amore. Doveva essere suo padre, pensai. Il giorno dopo non c'era più. Il ragazzo mi spiegò in lacrime che non aveva messo l'immondizia nel posto esatto ordinato lì da una SSS. Per questo era stato massacrato, pestato a sangue, ucciso. Ora io mi chiedo, è questa umanità? È per questo che Dio ci ha messi al mondo? Per uccidere, sterminare le genti che secondo alcuni sono diverse o considerato un peso sociale? No. O per meglio, voglio sperare che non sia così, fratello mio. Se questo è il vero disegno che Dio ha per noi, desidero morire subito, piuttosto che vivere in un mondo disumano. Sono ormai quattro mesi e tredici giorni che mi trovo ad Auschwitz e sono vivo. Forse è solo fortuna, oppure qualcuno lassù crede che io sia destinato a sopravvivere e a raccontare questo ai miei figli. Qui, dove mi trovo, all'entrata c'è una scritta. Il lavoro rende liberi. È la prima cosa che ho visto quando sono entrato qui e non mi rimane che aggrapparmi a questo. Sperare di guadagnarmi la libertà, in qualche modo, lavorando sogro. A volte preferisco pensare che le persone che sono andate a morire è perché non si sono impegnate abbastanza, non hanno lavorato al massimo delle loro capacità. A volte raccontarsi delle piccole bugie aiuta ad andare avanti. Non voglio lasciare che le fiamme brucino anche la mia fede. Voglio credere e sperare perché è tutto quello che mi rimane. Spero che dovunque ti trovi tu stia bene. Ci rivedremo presto, ne sono sicuro. Ti voglio bene.